Ciao a tutti, oggi proveremo gli hamburger di melenzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 15 minuti. Gli ingredienti sono delle melenzane dagli adattatini, olio, pangrattato, aglio, sale, parmigiano e pecorino, prezzemolo e basilico, pane e pepe. Andiamo via alla ricetta. Mettiamo nel boccale il parmigiano e pecorino, il pasticchio d'aglio, il prezzemolo e basilico, il pane, il sale e il terreno. Andiamo a tritare il tutto, 15 secondi, a velocità 10. Il nostro trito è pronto, andiamo a metterlo da parte. Riposizioniamo il nostro trito e andiamo a mettere le melenzane all'interno del boccale. Mettiamo l'olio. Adesso andiamo a cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. 2. Adesso andiamo a tenere il trito e amalgamiamo per 30 secondi, a velocità di 2. Uniamo adesso il pangrattato e amalgamiamo per altri 20 secondi a velocità 2. 2. Il nostro composto è pronto, andiamo adesso a formare le melzane. Andiamo adesso un piatto, un peccettino di gara da forno. Andiamo a posizionare un coppavasta e con un cucchiaio andiamo a prendere il nostro composto. Lo mettiamo all'interno. e andiamo a schiacciare il tutto. togliamo la coppavasta. Il nostro hamburger è pronto. Adesso lo andiamo a riporre in forno per 20 minuti a 180 gradi. hamburger di melanzane. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!